Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Non ci voglio credere ho voglia di suicidarmi Quanta hai fatta? 556,80 L'ultima hit L'ultima hit Ma ma che cazzo, 11 a 10 Finita la stream col maestro quindi per 4, non lo so quando staccheremo Fall Guys Stamo almeno a 2222 sub Se famo una speed run si Se la famo arvolante Con grosse berbe Oh aspetta che questi forse sono bei soldi eh Marzo ricordate non ci crede mai Eh esatto perchè non ci sto a capire Però sembrano essere buoni Ok anche il mio C Ma no questo va velocissimo No sono 29 euro Questo va troppo veloce per non essere buono Donna che lecca Donna che lecca Donna che lecca Oddio si Una merda Oddio il diavolo Il diavolo psichedelico con 3 occhi Oddio l'elefante L'elefante con 6 mani Che cazzo sta dicendo Che Vabbè ma ha fatto un hit DJ la furia incredibile E che cazzo Sera sincerato Ah si francesco nozzolino RU! B! NOOOO! Non lo so Rubino Non lo so Non lo so Non lo so Stanno arrivati in squali Stanno arrivati Io hanno tagliato la testa Dai da real ma la prendi dai Me la devi dammo Eccola lì Invento I fior ma Il fior ma Tutto me potete di ma sembri il Ok Ma avete appena motivato a non casca mai più con la macchina Deste appena prima di cadere Quella stu sta vomitando l'anima Ok 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 ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Yeah Questo è urlo zia è sta grottina è urlo si è visto bello gian 3 marzo marzo quando scendo allora ok ma io non vedo quel 3 erbe il 25 giro bentornato a rica storia vedete che stiamo a dare una mano ed forco dio travis quando aderbeto si la fetta di cula dai zio vera ah ma che è il coso degli inferi di coso di hercules lo sdrogo della roccia grazie per i sette è arrivato pure a quel punto su questo magari se non ha distrutto un cazzo mamma che manata the wild ho lo gatti di nuve tutto a posto alza nonna ma fai cazzo a parte spam by modicon porco di cristo porco dio porco dio freezer era spaventato finalmente si era rivelato il leggendario super saian quicker di cazzo noooo no nooo nooo no ti prego no ti prego no ti prego no PC ok questo al sud a freddo al posto tutorial ok cosa succede amico poker ti racconti oh no nooo no no ti prego no ti prego no ti prego no no ti scongiuro io no te lo scongiuro No ti prego Il freddo ti rende gli autobus Il fenomeno Vai su grip Quello si che è un gioco tunguiano Com'è? Com'è che fa? Com'è? Ma tutti ragazzi qui gabo Un nuovo walkthrough di merda Continuo a immaginarmi sempre La gente che guarda i VOD E non sentono la musica E vedono farmi queste cose Ciao gente che guarda i VOD Avete veramente coraggio a continuare a guardarli Cioè sentono solo la sedia che si muove praticamente Probabilmente No ma senza probabilmente Anche perché è una sedia tipo di merda Nel senso Saluto a mio fratello Perché lo amo Ciao tipo Parco d'anno fatta apposta Sì È palese È volutamente fatta apposta questa cosa E moè E chi ha cercato di più Putin non l'Unione Europea Avrà del over Dopo che fai quel coso mi lancio Ma insomma Non funziona Ma se ci lanciassimo da qui La mia vita Sì Io sono un pezzo di merda Cioè Qual è il problema Ma dove sei il zotto? Eh Fatti che si vuole Amico Infatti Com'è che sei indietro te porco dio Do te sei bloccato? Il re Senza una mano Con un braccio Hamburgerone è diventato un fenomeno così mondiale Che ha vinto le elezioni Alla Lì Lì In Taipei E poi beh Il resto È un'altra storia Conosco troppo bene La schiarita di voce Schiarita di voce Ti permette di avere una Oh no Aspetta Ma perché mi sono aumentati così? Ah con l'ultimo giro 50 euro ho fatto Quanto hai fatto Marzò? 79 euro e 20 541 Marzò ma tu non hai capito Un grado grazie di cinque Ma lo sai che mi ha fatto Mi mette i primi wild Non ne ha ittato uno Quindi me l'ha messi tutti sparsi da La verità è non pensare E' paestro Io porco Ricordo sempre se vostra madre sta dormendo Ha lasciato la borsa in un buon punto Potete rubare la carta di credito Dietro ci stanno i tre numeretti Mettete quelli Facile 50 sabbetti al volante Avete fatto Beh bello così Così non me ne accorgo Di questa youtuber sta mercappo Ma sicuramente di qualcosa Sarai stato protagonista BOOM BABY BAY BOOM BABY BAY No, no